si mattina ero e spaccato se fai tutto come si chiama metti in marcia che ti dà non lo so angino di eroe spaccato tonno che ti dà eroi e ti dà forza di dinosauro una un attimo sembra e no fatti la casetta se lo vai white ti sei lo schiappogliere dato mattino white white chiamano senza ciò che chiamano marcia andrata tanto schiatti non è entrato per meno io non c'entra comunque che ti dà ma emi non ho capito forza di dinosauro e poi? ma poi qui nella ribalta poi? e poi non lo so guardati gli eroi che ci sono mettiti in marcia eroi da paura ti dà si aspetta allora vado a non registrare una coltata su c20 eroi paura paura continuare a campione white ah doveva uscire anche danny salire fammi farà male a 0 ma temi si è nella shop ah 0 gg entrata rega entrata un attimo tu botta e cosa hai attaccato botta e ero o poisoned io padratto fa un молодo ninja che fa ase volta i ase un o o sentence pulsi Chicken prison Lasciatemi il pezzo sopra Lasciatemi il pezzo sopra Lasciatemi questo Matteo, ci sei giusto Che dolore Gli ha un po' Non c'è mai Perchè? 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 ho capito mini da mare mini raccio raccio mamma mia vio ragazzi ma il ponte sono l'unico che l'ha fatto oppure io il ponte me l'ha distrutto subito e sto riarrivando hai raggio il raggio te lo metterai ah si subito proprio all'istante me l'ha distrutto mano ho fatto anche il ponte di qua mamma mia quanto sono scarto valendi mi decadalo parolet ah niente no mi faccio passare detto siamo al mini sono al mini raggio al mini sto morto porco cane porco cane thank you matti salto cazzo chi è che mi ha preso alla pedana tu matti no si eravamo indietro ma crede tu mi sei buono ma io che non cioè non credo eh no ma non allora uno due tre è qua un po' Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.